Giordano Bruno Guerri, storico e scrittore, presidente del Vittoriale degli Italiani, ben trovato. Il valore della memoria per lei è un po' un modo di vita, ha dedicato tutta la sua vita alla storia e a questo. Oggi la memoria che valore ha? La memoria è essenziale, pensi un individuo senza memoria, praticamente non conosce la propria vita e quindi non può sviluppare il presente e il futuro. Per un popolo è la stessa cosa, un popolo senza memoria è un popolo che non sa organizzare il proprio presente e prevedere il proprio futuro. Per cui la conoscenza della storia e l'analisi obiettiva della storia è fondamentale per vivere. Ci sono delle persone, ci sono dei fatti, ci sono dei luoghi che rappresentano momenti importanti per la memoria collettiva. Quanto i giovani devono recuperare anche questi ambienti? La scuola li deve formare per capire l'importanza della storia che è essenziale per la conoscenza non solo della storia in sé ma della propria esistenza, del proprio sviluppo di pensiero per sapere chi sono. Lei ha scritto molto di storia e ha intercettato quindi anche molti adulti. Il suo modo di scrivere è proprio molto chiaro. Quali sono i messaggi che devono arrivare anche ai grandi? I grandi devono capire che la conoscenza è tutto e non parlo solo di storia. La conoscenza significa tecnologia, significa scienza, significa società e quindi bisogna essere informati.